ha messo anche qua adesso e l'ultimo chiude la porta chiudi e dopo diglielo fai il saltino Matteo fai un bassaltino eh si eh siamo passati sotto lì e dai quasi che dobbiamo andare qualche volta in cima in cima prima o dopo andiamo arriva il cortinaio si boom è 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 Max potevi girarli intorno eh Max Potevi girarli intorno eh Perché tanto va fuori là in alto Sì non c'è più il cancello aiuto non c'è più il cancello sono al di là della barriera sono in Svizzera aiuto aiuto e ho preso la scossa vedi che l'ha alzata e gnau quanta cacca e allora potevo finire cazzarola cacchio io sono passato sotto adesso che sono passato sotto è finito allora è inutile ormai ero arrivato ormai a posto? ormai